Tu pensa che io potevo andare in televisione con tutte le conoscenze che ho, so che sono molto scomodo a chi è già in televisione. Cosa faccio nella vita? Vivere ai colori, sono un animatore tutto tondo. Faccio magia comica, baby dance, sculture di palloncini, balloon art, bolle di sapone, tutto ciò che è divertimento riguarda la mia persona. Tante volte si dice che uno fa il clown per far ridere la gente perché è triste. È vero, qualsiasi clown ha una storia da raccontare, però la mascheriamo con l'allegria. A presto!